Le novità in Fiera sono tutte concentrate sugli spazi, più una casa con ambienti unici, sala e cucina e per questo abbiamo creato una parete divisoria in alluminio che consente una divisione di questi spazi mantenendo la stessa luminosità che non darebbe invece una parete diciamo così in cartongesso. Abbiamo creato la bifaccialità e in cucina abbiamo delle pareti attrezzate che in qualche maniera ci consentono di dividere gli ambienti e di crearne nuovi ancora. Delle soluzioni che sono facilmente montabili e quindi questa, come dire, questa duttilità crea un grande appeal presso tutti i nostri clienti. Gli obiettivi, il primo e il principale è crescere chiaramente, cosa che stiamo già facendo. Gli obiettivi futuri saranno rafforzare le soluzioni di complemento di arredo che già abbiamo creato. Stiamo sviluppando concetti integrativi per una cucina che in qualche maniera va dal di là di quella che ha rappresentato fino a questo momento l'idea proprio stessa della cucina. Questa è la nostra filosofia, speriamo di riuscirci sempre meglio, ce la mettiamo tutta e penso che i risultati sono di fronte agli occhi di tutti.